Benvenuti, benvenuti in questo oroscopo per il 2025. Andremo a vedere il nuovo anno, cosa ci riserva, cosa ci promette. Lo faremo ovviamente con l'astrologia, ma non mancherò di interrogare anche i miei tarocchi e tutte le altre carte. Vedremo il cielo dell'anno 2025, che è un cielo roba da pazzi. Ci sono cambiamenti proprio di posizioni di molti pianeti lenti che sono molto importanti. Ok, quindi vedremo un po' il cielo del 2025, dopodiché andremo a vedere il tuo segno zodiacale nello specifico. Allora, l'anno 2025 vede tantissimi cambiamenti, qui mi sono appuntata a quelli più importanti. Tutti i pianeti lenti, pianeti cioè da Giove in avanti, cambieranno tutti praticamente segno zodiacale. Giove, Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Se contiamo che Plutone è appena entrato, anche lui in acquario ha appena cambiato segno, tu mi capisci, tutti i pianeti lenti. Perché parlo di pianeti lenti? Non li guardo neanche Marte, Venere, li vedremo poi nei mesi, mensilmente. Perché sì, ti possono cambiare l'umore per quei venti giorni, ma questi ti cambiano la vita. I pianeti lenti cambiano le generazioni. Sono pianeti che entrano in un segno e ci stanno minimo due, tre, dieci anni, vent'anni, sette anni. Cioè, tu capisci, cominciano ad essere movimenti importanti che si sentono, che portano grandi cambiamenti. Dunque, dicevamo, qui c'è tutto un susseguirsi. Dalla primavera, quindi fra aprile e luglio, c'è uno spostamento d'aria allucinante. Allora, si parte con il 31 di marzo, quindi vabbè, diciamo aprile. Comunque, il 31 di marzo, Nettuno, ok, il dio del mare, che dal segno dei pesci in cui c'è stato decenni, passa nel segno focoso, bello istintivo, bello guerrigliero dell'ariete. Stessa cosa farà poi Saturno, gli va dietro, perché Nettuno e Saturno stanno camminando a braccetto nei pesci, ok? E entreranno, passeranno insieme, quindi, dai pesci all'ariete, perché Saturno, giorno 25 maggio, quindi subito dopo Nettuno, anche Saturno passerà in ariete. 25 maggio. Poi si passa al 9 giugno, che Giove, dai gemelli, entra nel segno del cancro. Quindi, beato cancro che tu avrai questa manna dai cielo, ma ora lo vedremo, non solo il cancro, ovviamente. Quindi il 9 giugno e il 7 luglio, Urano che lascia i gemelli ed entra, scusami, che lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. Salvo poi, che mi sono già appuntata, nell'autunno, inverno, insomma, torneranno indietro in modo retrogrado, quindi Nettuno rientrerà nei pesci alla fine di ottobre, Saturno, anche lui, rientrerà nei pesci il primo di settembre, e Urano rientrerà in toro a fine anno, verso il 9 di novembre. Ma avremo modo di vedere tutti questi transiti. Quindi tu mi capisci? Qui c'è un cielo che cambia completamente. Allora, se vogliamo innanzitutto vedere questo Giove, il pianeta della fortuna, del benessere, effettivamente non stravolge la vita Giove, però se la giusta, sinceramente. Capito? Ha maggior ragione se tu sei un segno zodiacale, e ora andremo a vedere il tuo segno zodiacale, che magari è maleficiato, non so, da una quadratura di Saturno. Se tu hai Saturno quadrato, ma tu hai Giove e ti sostiene, poi Gebùa fa pari. Insomma, va visto un po' tutto nel tema Natale. Ok? Ti raccomando, guardati, il tuo segno zodiacale e l'ascendente come minimo, come minimo questi due segni. Se poi tu lo conosci, anche la luna. Va bene? Se tu conosci Venere, guarda, fa anche Venere. Ancora meglio. Ma insomma, il minimo sono il segno e l'ascendente. Detto questo, quindi Giove in cancro, quindi segni come la Vergine, si sente riavere, va bene? Con Giove in cancro si sente riavere, anche perché è martellata dall'opposizione di Saturno e Nettuno. Quindi una Vergine, sicuramente, anche perché poi appunto Saturno e Nettuno termineranno l'opposizione dai pesci, quindi una Vergine comincia a respirare nuovamente. Ok? Poi mi viene da pensare, per esempio, ma lo vedremo adesso, a un toro, anche il toro con questo bel giovane in sé stile, sicuramente si sentirà, si sentirà di avere uno scorpione anche, uno scorpione con un bel trigono di Giove, e via dicendo. Ma qui ci sono quasi tutti i segni zodiacali che verranno chiamati in causa, che vedranno dei cambiamenti di scenario nella propria vita importantissimi, perché sono i pianeti lenti che si muovono. La Venere, Marte, la Lune, cioè, sì, ti possono portare a quei 15 giorni, 20 giorni di giramento, ma chi ti cambia la vita sono questi. Cioè, non so se mi spiego. Detto questo, quindi, sicuramente qui l'aria cambia, situazioni magari finora rimaste un po' sotto pelle, parlo anche a livello mondiale, a livello generale, per la nostra vita in generale, poi vedremo il tuo segno adesso. Non so, io stavo guardando a questo Saturno e questo Nettuno dai pesci, entrambi insieme mi entrano in ariete, mi entrano in ariete, insieme. Quindi qui si passa da un segno, se vuoi, remissivo, calmo, tranquillo, che poi calmo, tranquillo, insomma, per modo di dire, ma insomma, diciamo calmo e tranquillo il pesci, no? È un segno acqua, l'acqua si adatta a tutto, lascia correre l'acqua. L'aria è un guerrigliero. Ora, io voglio di quello che penso, però l'ariete non è i pesci, quindi l'ariete passa all'attacco, l'ariete si muove, l'ariete fa, sbatte, fa, decide, parte, vuol comandare, vuol essere il primo, è un po' il leader. Quindi qui cambiamenti di scenari, sicuramente. Guarda, uno su tutti mi viene da pensare l'entrata in carico, diciamo l'entrata, come si dice, in carica, no in carico, del nuovo presidente degli Stati Uniti, che avevamo visto sarebbe stato Trump, cioè avevamo visto le mie carte, avevamo visto, non io. Ok? Quindi, già solo lì, ok? Ecco, ora non entriamo in tecnicismi troppo così. Comunque, io voglio tirare anche un paio di tarocchi generali per l'anno 2025 e poi andremo a vedere un po' tutto questo movimento, tutto questo ambarada, cosa significa per il tuo segno zodiacale. Per esempio, un urano che mi entra in gemelli, insomma, qui ci sono dei cambiamenti forti, per un leone, per una bilancia, per un gemelli stesso, per un ariese, per un acquario, può arrivare il lavoro, ci possono essere, insomma, ora lo vedremo. Il 2025, secondo il mio modestissimo parere, è un anno che ci se lo ricorderà tutti, chi per un verso, chi per un altro, perché cambiano proprio le colonne nel cielo, il cielo cambia proprio. Poi ci sono i pianetini più veloci, Marte, Venere, quindi insomma, il momento un pochino più bello, tosto, il momento un pochino più affettuoso, il momento in cui siamo più nervosi, il momento in cui invece si sentiremo meglio, vedremo l'amore dei nostri occhi, della nostra vita. Ma questi, questi sono importanti, questi stanno un anno, tre anni, sei anni, vent'anni, cioè, tu mi capisci. Andiamo a vedere. 2025, poi ragazzi, ogni mese, si vedrà questo anno, più nello specifico, ogni mese faccio l'oroscopo del mese, di ogni segno zodiacale e li studieremo più da vicino, va bene? Vediamo un po' in generale, questo 2025, come sarà? Ma, guarda come sarà, il matto con il 5 di bastoni, ah però, beh, allora, qui sicuramente siamo ancora in generale un po' per tutti noi, un 2025, come ti ho detto, che vedrà assolutamente tanti cambiamenti, novità, cose anche che si espandono, quindi ci saranno anche dei confini, secondo me cambierà anche la cartina geografica, ve lo posso dire, tanto mal ho detto, quindi sicuramente qui ci sono degli ampliamenti di confini, mettetelo alla vostra vita poi, quindi non so, un lavoro che vi aumenta, un lavoro che troverete se lo cercate, qui c'è un qualcosa di insolito, di nuovo, che entra nella nostra vita, quindi un po' per tutti, poi per chi andrà in un verso, per chi andrà in un altro, adesso lo vedremo, però, dei cambiamenti di scenario, dei cambiamenti su il lavoro, nella nostra vita, un qualcosa che aumenta, che si allarga, chi allargerà famiglia, per esempio, ci può essere chi fa famiglia nel 2025, chi apre una sua azienda, chi non l'apre, però la espande, chi trova lavoro, chi aumenterà il lavoro, aumenterà i fatturati, chi si innamora, chi deciderà di cambiare vita, fa fagotte e se ne va da qualche parte, magari all'estero, visto queste carte, e via dicendo, quindi qui dei cambiamenti belli, belli, importanti, e te credo, mi torna quello che riono, perché guarda qui, qui c'è proprio un cambiamento di scenario, in questo cielo, assurdo, allucinante, che succede tutti i giorni, e bambine, ve lo dio, comunque, detto questo, non mi dilungo troppo, andiamo a vedere, e ricordati di guardare, il segno, l'ascendente, e la luna, andiamo, allora bilancia, parliamo del tuo 2025, allora dunque, qui la prima parte dell'anno, tu continui ad avere questo Giove splendido, dal segno dei gemelli, quindi un trigono bellissimo, meraviglioso al tuo sole, al tuo ascendente, insomma dipende se tu sei ascendente, o tu hai il sole appunto in bilancia, qui sicuramente ci potrebbe essere, non so se tu studi, se tu fai dei concorsi, insomma diciamo che, c'è questo stato di benessere, di fortuna, di cose che girano come devono girare, poi tu hai Plutone in acquario, che ti sostiene alla grande, un sostegno, un fondamento molto molto importante, forza, energia, carattere, determinazione, situazioni anche grosse, importanti, che ti sostengono, quindi per i prossimi vent'anni, ricordati di questo, quindi Plutone è uscito dal Capricorno, che sta un pochino massacrato, effettivamente negli ultimi anni, ma adesso lo avrai a favore, per i prossimi vent'anni, c'è questo Giove dai gemelli, che sicuramente ti aiuta, si sostiene ancora, fino alla metà del 2025, dopodiché udite udite, Urano, che è un pianeta importantissimo, Rostolli ha rifatto tutta la pappardella, spiega, fidati, che ti entra nel segno dei gemelli, il 7 di luglio, come abbiamo visto nell'introduzione, ascoltatevi l'introduzione, perché è importante, nel segno dei gemelli, quindi altro trigono splendido al tuo sole, quindi tu cominci a avere, a Giove fino a giugno, dopodiché Urano da una parte, Plutone da quell'altra, che ti formano questi trigoni al sole, che sono una roba splendida, primi fra tutti, mi viene da pensare al lavoro, concretizzazione lavorativa, denaro, qui se tu c'è un qualcosa, con il lontano, con gli studi, non so, intenzioni di muoverti all'estero, fare dei viaggi, lavorare con l'estero, con il lontano, insomma, qui ci può essere sicuramente questa, questa concretizzazione, passioni, sicuramente qui c'è una bilancia che si risveglia, non che tu abbia dormito fino ad ora, però insomma, diciamo che qui ci saranno degli stimoli belli, 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 importanti, insomma, diciamo che qui le cose vanno. L'unico neo sarà l'entrata poi, perché ovviamente ci vuole qualcosa, Sennò siamo contenti, però insomma, penso più alla prima decada, insomma, non tutti lo sentiranno già nel 2025, però te lo devo dire, per onor di cronaca, c'è l'entrata di Saturno e Nettuno, la direte che è in opposizione al tuo segno, ma, ma, lo vedi qui? L'opposizione, no? La vedi? Ecco, quindi qui c'è la bilancia, qui ci saranno Saturno e Nettuno, ma ripeto, ci vorrà del tempo, prima tu lo senta, ma nel mentre c'è st'opposizione, io c'ho sti trigoni di qua, ora io non ti posso stare lì a spiegata, ma te lo dico perché dice, no, ancora, no, un conto è l'opposizione o la quadratura di qualche anno fa, un conto è quella di adesso, qui tu c'hai il sostegno sia di Plutone sia di Urano, quindi, non voglio dire che Saturno e Nettuno ti faranno un baffo, però effettivamente ti scalfiranno meno, non so se mi sto spiegando, va visto un po' tutto il gioco, no? Delle stelle, insomma, del cielo, quindi bilancia, non è nulla da preoccuparti, almeno non per il momento, non per il 2025 sinceramente, va bene? Quindi un Giove bellissimo per i primi sei mesi, per i primi sei mesi, andando poi via Giove che passerà in cancro, tu avrai Urano che arriverà a sostenerti, quindi sicuramente molte cose prate che andranno in porto, penso al lavoro, penso al denaro, ora vedremo nei dettagli, con le carte, quindi non preoccuparti bilancia, anzi, altro che preoccuparti, Urano in trigono, vorravelo io, vediamo l'anno 2025, l'anno 2025, l'anno 2025 per la bilancia, per la bilancia, bilancia anno 2025, come sarà l'anno 2020, il carro, il carro, questo è il gladiatore, è il gladiatore incoronato, che corre, che va, che avanza verso la vittoria, ok, quindi già aprire con un carro, la regina di spade, che effettivamente tu potresti essere te, e il mondo capovolto, qui c'è una realizzazione, dunque, e il bagatto con l'imperatrice, che sono altre due carte meravigliose, stratosferiche, bellissime, quindi qui c'è una realizzazione, magari non completa, magari non arrivi proprio al cento, e qui il re di bastoni del taglio, non arrivi proprio al cento di quello che tu volevi, ok, però tu arrivi sicuramente, allora qui c'è il lavoro, senz'altro c'è un progresso, un progredire di una situazione, che sia lavorativa, che sia economica, insomma, qui si arriva con qualche cosa, ci sono anche dei denari, che entrano sicuramente, ripeto, magari non è 300%, ok, perché dovremo avere a che fare, come ti stavo dicendo, nella prima parte, ci sa Giove a favore, nella seconda parte, insomma, Giove ci lascia, però per conto entra Urano, quindi io qui ti vedo molto determinata, bilancia, uomo o donna che tu sia, ok, molto determinata, molto, quindi qui tu avrai le idee ben chiare, le idee ben chiare, laddove tu vuoi arrivare, non escludo viaggi, come ti ho detto, non escludo qualche bilancia, che potrebbe lavorare all'estero, con l'estero, per l'estero, non lo escludo affatto, qui come tu vedi, a parte tutte le altre, c'è anche una coppia, qui c'è questo re di bastoni, che ti guarda, vedi, sembrano andare proprio, verso, esattamente, verso di lui, queste carte, io continuo a vedere, uno spostamento, da qualche parte, quindi qui c'è molto chiaro, proprio il settore dell'estero, comunque del lontano da casa, quindi qui qualcosa la bilancia ce l'ha, che ha a che vedere con il lontano, poi ognuno di voi saprà, ti ripeto, guarda l'ascendente e la luna, questi tre oroscopi, e poi metti tutto insieme, questo è molto importante, a il lavoro, sicuramente delle nuove, delle nuove conoscenze, qui tu potresti avere un figlio, una figlia, insomma, che ti darà grande soddisfazione, magari un figlio o una figlia che è lontano, un figlio o una figlia che si potrebbe sposare, o comunque realizzarsi, che arriva alla conclusione di qualche cosa, potresti rivedere un ex, non so se ti fa piacere, ma te lo dio, quindi ex marito, ex moglie, ex qua, ex là, lo potresti, la potresti rivedere, durante questo 2025, o comunque riaverci, diciamo, un dialogo, riaverci a che fare, per un motivo, per un motivo X, ma andiamo avanti, ma queste carte sono molto belle, ma ti vedo molto decisa, bilancia, molto determinata, capito, ad arrivare là, dove tu vuoi arrivare, guarda, qui c'è la chiave del destino, ed è una carta bellissima, in questo mazzo di carte, che mi parla, proprio di trovare la chiave, che apre le porte, che tu devi aprire, quindi qui tu troverai, la chiave, ma proprio per destino, va bene, poi c'è mercurio, ma qui c'è il sole, quindi qui c'è una vittoria, c'è del denaro, c'è un qualcosa di positivo, che arriva per la bilancia, ci sono delle comunicazioni, delle novità, dei viaggi, delle nuove conoscenze, che possono arrivare, ok, fammi un po' vedere, quindi se tu studi, tu ti potresti laureare, o comunque arrivare, arrivare lì, lì, o come ho detto, un figlio, una figlia, che magari si realizza, va bene, io ne vedo due, dei figli, comunque, detto questo, ne sono cascate 200, piglio solo la prima, quella in vista, che ho visto, ed è la carta azzurra, cioè questa è la carta jolly, insieme a questa chiave, tu mi capisci, bilancia, qui tu trovi tante soluzioni, ai suoi mali, ai suoi mali, per modo di dire, ok, con il sole, con mercurio, e con queste carte, fantastiche, che mi parlano di risoluzione, di un qualche cosa, di un trovare appunto, la soluzione a qualcosa, trovare la chiave, che apre le porte, mi viene da dire, le porte del successo, le porte del potere, perché qui vedo anche, qualche bilancia, ora, non mi piace a me, parlare con queste parole, però tante, e lo vedo, te lo devo dire, capito, magari, che sale di grado, che sale in carica, che guadagnerà potere, magari, proprio sul luogo di lavoro, insomma, qui ce ne sono, di cose belle da parlare, poi, se ti iscriverai, a questo canale, mi seguirai, ogni mese, andremo a vedere, nei dettagli, quello che accadrà, come le cose, avverranno, e via dicendo, ormai tu lo sai, ma diciamo, che qui, l'anno promette, parecchio bene, fammi vedere, bilancia, anno 2025, il segno zodiacale, qui c'è il segno zodiacale, della vergine, quindi, può essere un segno, magari, proprio se tu, c'ha qualcosa, vergine nel tuo tema, non lo so, ok, comunque, il segno zodiacale, della vergine, è un segno molto importante, con cui avremo a che fare, ma mi parla anche, vedi, I am a problem solver, sono, a, un, come si dice, un risolutore, di problemi, insomma, risolvo i problemi, quindi, qui, e ci credo, che tu li risolvi, a parte, con questa carta jolly, che è stratosferia, ma tu risolvi, un qualche problema, un qualcosa, che avevi in ballo, magari, un qualcosa di vecchio, che si trascinava da tempo, ok, un qualcosa, che non si trovava bene il bandolo, qui c'è la risoluzione, di un qualche cosa, sicuramente, io continuo a vedere due figli, eh, non so se tu, c'hai un figlio maschio, o una femmina, sì, ok, sono paziente, 10-10, rimani con i tuoi pensieri, mantieni i tuoi pensieri positivi, e sii paziente, che tutto, eh, sta, eh, funzionando, sta andando, per il tuo bene superiore, insomma, per migliorarti, eh, la vita, fidati dei tuoi angeli, che stanno lavorando, dietro le quinte, per aiutarti, vedi, divine timing, è arrivato il momento, quindi, qui ci sono risoluzioni, di problemi, novità, aiuti, come ti stavo dicendo, e bla bla bla, vediamo le sibile, guardati l'ascendente, mi raccomando, è troppo importante, ok, la costanza, come prima, come il viaggio, eccola là, ok, la costanza, il viaggio, i pensieri, vedi, vedi il viaggio, anche qui, c'è il carro, il carro qua, quindi, sicuramente, qui c'è una bilancia, che si sposta, magari, semplicemente, tu fa un viaggio, perché ti piace viaggiare, però, insomma, qui ci può essere, veramente, anche il lavoro, magari, semplicemente, ci può essere qualche bilancia, che lavora con la comunicazione, che lavora con una platea di persone, per esempio, su internet, capisci, e ti voglio dire, ecco, comunque, qui vedo anche amici, uscite, vedi, qui c'è la lettera, quindi, una novità che arriva per te, e il desiderio, quindi, qui c'è un desiderio, che si realizza, una proposta, magari, proprio lavorativa, cioè, bilancia, belle, 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 vedo amici, qui ti stanno dicendo, che gli angeli, stanno lavorando, dietro le quinte, quindi, magari, tante cose, te non le vedi, tu pensi, che le cose, siano ferme, ma non sono ferme, qui c'è il carro, a parte che è una carta, fantastica, di progresso, di vittoria, di avanzamento, di carriera, eccetera, bla bla bla, parte questo, ma appunto, è un carro, quindi si muove, quindi, le cose ferme, non sono, non lo sono affatto, qui tu c'hai la chiave, quindi, sicuramente, tu troverai la chiave, per i tuoi problemi, o per un problema, che tu hai, sicuramente, le cose, tu le riuscirai a cambiare, oracoli dell'amore, vediamo la bilancia, qualcuno ha una cotta per te, anime gemelle, subita bomba o sì, ok, effettivamente, qui c'è anche la coppia, te l'ho detto, quindi, senz'altro, qui c'è una bilancia, che se vuole, può viversi anche, una bella storia d'amore, una bella passione, eh, vediamo, anime gemelle, 2025 bilancia, dai, alle cose, il tempo di svolgere, si è te l'ho detto, ok, quindi, vedi un attimino, il timing, guardati l'introduzione, dove spiego le date, non mi sto a ripetere, ok, quando se tu avrai ancora, giove in gemelli, fino al 9 giugno, e poi, dal 7 luglio, urano in gemelli, ok, molte cose, insomma, andranno, cadranno, guarda, è colpo di fulmine, cadranno nel loro posto, è colpo di fulmine, quindi, qui ci può essere, veramente, anche un nuovo amore, una nuova storia, una persona, che ci piacerà tanto, a cui piaceremo tanto, e via, discorrendo, qui c'è un bagatto, con un'imperatrice, che oltre a tutto il resto, sono due carte fantastiche, ok, quindi, magari, cerca di guardare, anche, it ad intorno, perché qui, Paiano, proprio, non vedessi, queste due persone, sono vicine, ma non si vedono, quindi, guardati bene intorno, guardati bene intorno, perché, senz'altro, qui c'è qualcuno, interessato, interessato a te, viaggi, l'abbiamo detto, abbiamo visto dei denari, che possono arrivare, magari non tutti, se tu l'aspetti, ma qualcosa ti arriva, ma non saprei usaltro dirti, perché qui c'è da parlare, qui c'è da parlare giorni, bambine, mi fermo qui, mi raccomando, ascendente luna, iscriviti al canale, vediamo ogni mese, l'oroscopo, mensile, e andremo a vedere Marte, venere in questo scenario, come si muoveranno, cosa ti porteranno, in che modo, e perché, va bene, e niente, non mi resta che augurarti, uno splendido nuovo anno, uno splendido 2025, e se vorrai, io ti aspetto qui, su Penelo, per le sue carte, al mio prossimo video, ciao!